Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano questa sera parliamo di politica e di amministrative perché è in corso in questo momento nella sede di Via Re Davide, il Partito Democratico, il tavolo di centrosinistra in cui le forze progressiste si sono riunite per trovare una sintesi tra i due nomi in campo. Quello dell'avvocato penalista Michele Laforge e dell'attuale capo di gabinetto del sindaco Vito Leccese. Nodo della questione è ovviamente la scelta, il metodo di scelta, quindi primarie sì o primarie no. E allora per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra Alessandra Bucci che è lì per noi sul posto. Ciao Alessandra, buonasera. Sì, Serena, buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come dicevi è in corso da circa un'ora e mezza il tavolo di coalizione, quello che servirà per decidere e risolvere questa impasse in cui si trova il centrosinistra al momento. Due candidati, lo ricordiamo, l'hai ricordato anche tu Vito Leccese, il capo di gabinetto del sindaco Antonio De Caro e l'avvocato penalista Michele Laforge. Sono circa 35 gli interventi che esideranno durante il tavolo di coalizione nella speranza che si possa trovare una sintesi rispetto alle posizioni distanti di parte del centrosinistra in questo momento. Sicuramente verrà fuori un documento unitario da questo tavolo del centrosinistra con l'ipotesi primaria che non è stata del tutto archiviata. Lo ha detto anche il segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, che nel frattempo si è raggiunto, si è staccato un attimo dal tavolo. Intanto auguri di buon compleanno, un compleanno speciale questo. Sì, molto speciale. Speriamo di arrivare a cena, almeno con la famiglia. Allora, segretario, le primarie non sono state completamente archiviate in questo momento? No, diverse forze politiche hanno chiesto le primarie. Anche noi, come parte del mio intervento, ho chiesto che si facciano le primarie per trovare una soluzione unitaria con regole da costruire insieme. Possiamo anche cambiare il nome, però ora naturalmente sarà il tavolo che dovrà decidere. Questa è la nostra proposta. L'unica certezza è che dobbiamo provare a stare insieme, uniti. Ecco, ci sono ancora i tempi per poter fare le primarie in questo momento? Ma questo lo deciderà il tavolo, non lo decido io. Penso di sì, in tante realtà si fanno tardi. Il tema è come stiamo insieme. Ho chiesto di non dire no alla proposta delle primarie in maniera preconcettuale, perché sennò significherebbe che c'è la volontà da parte di qualcuno di dividersi e di dividere il centro-sinistra. Bisogna invece provare a stare tutti quanti insieme. Ma mi sembra che stasera la discussione sia molto serena, pacata. Ora il tavolo lavorerà per costruire una proposta complessiva in maniera unitaria. Siamo davanti a due grandi personalità. Vito Leccese e Michele Lafoggia sono due persone di un altissimo profilo, con competenze e professionalità eccezionali. Quando il centro-sinistra è stato diviso le primarie lo hanno unito. Quindi penso che questo possa essere il metodo giusto. Il PD assolve il ruolo di federatore della coalizione. Questo è almeno il vostro ruolo. Non accettate imposizioni di che tipo? No, speriamo che tutta la coalizione sia federatore del centro-sinistra. Quindi vediamo che cosa accadrà. Noi siamo fiduciosi perché la discussione è davvero molto serena questa sera. Verrà fuori un documento unitario da questo tavolo. Fino a questo momento c'è stata qualche apertura dalle sigle che appoggiano la candidatura di Michele Lafoggia alle primarie? Il sinistra italiano ha chiesto le primarie ed è il partito che ha lanciato la candidatura di Michele Lafoggia. L'ha fatto anche nei giorni scorsi Niki Vendola, tanti intellettuali di sinistra che giustamente chiedono le primarie per unire il centro-sinistra. Gianfranco Viesti, Enzo Lavarra e tanti altri hanno Barbanente, Capriati, non lo ricordo tutti, ma hanno fatto un appello al centro-sinistra, al tavolo del centro-sinistra, di trovare il muro per stare insieme. Penso che quell'appello bisogna rispondere. Noi come Partito Democratico stiamo rispondendo all'intellettuale Baresi e all'ex presidente della regione Puglia, Michele Vendola, che ci hanno chiesto di fare le primarie per tenere unito il centro-sinistra. Bisognerà superare le resistenze di Lafoggia? Qualcosa ha da dire a lui? No, stiamo discutendo qui tra i partiti. Se riusciremo a fare le primarie, vince le primarie il candidato sindaco del centro-sinistra. È sempre stato così. La regola prima delle primarie è proprio questa. Quindi riteniamo che le primarie possono davvero essere la sintesi. Poi possiamo discutere delle regole, di cambiare il nome. Questo non mi sembra importante. Però se chiamiamo il popolo del centro-sinistra a votare, penso che sia la cosa più utile per tenere il centro-sinistra insieme. Grazie al segretario regionale del PD, Domenico De Santis, grazie e buon lavoro. Grazie. Ci ritroviamo tra poco. A voi in studio. E allora, grazie alla nostra Alessandra Bucci. La strada sembra ancora lunga per qualsiasi aggiornamento. Ovviamente richiedici pure la linea. Noi intanto cambiamo argomento, ci spostiamo invece sulla cronaca perché sono arrivati quest'oggi importanti aggiornamenti sull'omicidio del 29enne a Molfetta. Ci dice tutto Italo Cinquepalmi. Buonasera Italo. Buonasera Serena. E allora una notizia di cronaca. Oggi si è presentato spontaneamente dai carabinieri di Molfetta assistito dal proprio avvocato per confessare un omicidio. È successo questo pomeriggio quando un 29enne originario di Bisceglie, volto noto alle forze dell'ordine, ha raccontato di aver accoltellato a morte un ragazzo di 23 anni in un appartamento di Molfetta. Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, il 29enne avrebbe accoltellato il giovane al termine di una lite e le cui motivazioni sono ancora in fase di accertamento. In seguito alle gravi ferite riportate, il 23enne è deceduto. I familiari avevano denunciato la scomparsa della vittima ieri sera ed erano già in corso le ricerche. Oggi il reo confesso ha quindi condotto i carabinieri nell'appartamento. Sul posto sono intervenuti i militari della SIS, la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari, per un sopralluogo sul cadavere del 23enne ancora presente sul luogo del diritto. L'intera ricostruzione della dinamica dei fatti è già al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha raggiunto l'appartamento per gli approfondimenti del caso. Bene, con questo è tutto per oggi. A te buona serata. Grazie, grazie Italo. Noi rimaniamo invece sulla cronaca. Aveva addosso diverse dosi di ecstasy, la Blue Punisher, attualmente una delle droghe più forti in circolazione. Un trentenne è stato arrestato a Bari. Vediamo. 13 pasticche celesti con le figie di un teschio, una tipologia di ecstasy nota come Blue Punisher, oltre a 563 sigarette di hashish già confezionate e pronte per essere vendute. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo sulla Trentina, cittadino gambiano, con precedenti di polizia specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del commissariato sezionale di Polizia di Stato di San Nicola, nell'ambito di un accertamento presso un'attività commerciale con sede in Piazza Moro, hanno sottoposto a controllo l'uomo che, a cortosi dell'arrivo degli agenti, avrebbe cercato di disfarsi di due buste di cellofan contenenti la droga. A seguito di perquisizione personale è stata rinvenuta la somma di 145 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell'attività illecita. L'uomo è stato tratto in arresto, associato presso la casa circondariale di Bari e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E torniamo adesso nella sede di Via Ray David dove, vi ricordo, si sta tenendo il tavolo di centro-sinistra per trovare una sintesi tra i nomi in campo, quelli di Michele Rafforgia e di Vito Leccese. Allora, torniamo dalla nostra Alessandra Bucci per ulteriori aggiornamenti. Alessandra, vengo da te. Sì, Serena, sono con Leonardo Donno, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle che ha ribadito in questo tavolo di coalizione il proprio no alle primarie però ha ribadito anche il sostegno dell'avvocato penalista Michele Rafforgia, l'unico in grado di rappresentare la coalizione di centro-sinistra e anche un'operazione di rinnovamento di queste elezioni. Sì, noi abbiamo atteso mesi per dare la possibilità al Partito Democratico al quale abbiamo appunto dato questa possibilità di individuare una figura che però doveva avere delle caratteristiche al di là dei curriculum tutti autorevoli di tutti i candidati che si sono proposti insomma in questi mesi, in queste settimane ma c'era un requisito importante ossia quello di sicuramente garantire una sorta di proseguio di quello di buono che era stato fatto nell'amministrazione uscente ma considerare intanto i dieci anni dello Movimento 5 Stelle all'opposizione e il fatto che era una coalizione dovrebbe essere, spero, mi auguro una coalizione nuova, larga con forze politiche come il Movimento 5 Stelle ma anche civiche, nuove e quindi serviva una figura a garanzia per tutti che non fosse un candidato di partito o di apparato e così come il dottor Leccese seppur con un curriculum sicuramente di tutto rispetto come ripeto tutti gli altri candidati non aveva questi requisiti perché a detta di tanti esponenti autorevoli del Partito Democratico è uno dei fondatori del Partito Democratico capo di gabinetto per dieci anni del sindaco De Caro quindi una soluzione in piena continuità e sicuramente che non garantiva quel rinnovamento necessario e soprattutto quella garanzia necessaria a tutta la coalizione ecco perché ad oggi l'unica soluzione che risponde a tutti questi requisiti e credo che ad oggi io almeno non ho letto da parte di nessuno degli altri presenti al tavolo ma anche di autorevoli esponenti del Partito Democratico hanno ritenuto l'avvocato Laforgia insomma una figura autorevole che poteva ricoprire questo incarico quindi non ci sono dei motivi ostativi e allora ci ritroviamo qui perché? Io credo che insomma l'unità sia auspicabile lavoreremo fino all'ultimo in questa direzione però a un certo punto insomma poi bisogna decidere anche perché le elezioni stanno arrivando Ecco siccome bisognerà tirare le somme e questo tavolo dovrebbe servire proprio a questo probabilmente ce ne sarà un altro laddove si perseguisse l'ipotesi delle primarie a quel punto mi sembra di capire che attraverso il vostro out-out sarebbe anzi andrebbe spaccati Io non me lo auguro sulle primarie ci siamo espressi talmente tante volte che veramente ripetere diciamo questa questa narrazione è un po' anche stancante ma capisco insomma che qualcuno provi sempre a tirarle in mezzo ma lo ribadiamo ancora oggi ancora una volta che sicuramente le primarie non sono la soluzione e soprattutto vorrei ricordare che per fare le primarie serve che tutti i candidati in campio abbiano quei requisiti per tutta la coalizione siccome noi abbiamo già detto che uno dei candidati perché ce ne sono due ad oggi non risponde a quei requisiti che avevamo richiesto era l'unica richiesta fatta dal Movimento 5 Stelle nella remota ipotesi che non esiste di primarie insomma non ci sarebbe un secondo candidato da contrapporre e allora ringraziamo Leonardo Dorno coordinatore regionale Movimento 5 Stelle grazie per essere stato con noi Serena ti restituisco la linea grazie grazie Alessandra noi andiamo avanti si è tenuto questa mattina l'ennesimo picchetto organizzato dal Movimento Lotta per la Casa Bari per accendere i fari sulla crisi abitativa in corso nel capologo pugliese vediamo otto tentativi di sgombero l'ultimo registrato questa mattina ma soprattutto nessuna certezza sul proprio futuro a denunciare la situazione è Anna Linda Lupis esponente del Movimento di Lotta per la Casa Bari secondo il racconto della donna madre di due figli di cui uno affetto da una malattia rara il comune non è riuscito a trovare una soluzione in tempi rapidi la famiglia è stata così costretta ad accettare un alloggio a Palombaio frazione di Bitonto una scelta che però complicherà la vita di Anna Linda e dei suoi figli costretti a spostarsi con mezzi di trasporto per raggiungere luoghi importanti come la scuola o l'ospedale quindi mia figlia avrà delle grosse difficoltà a poter raggiungere il posto di lavoro e rientrare di notte a casa e ancora oggi nonostante la mediazione del Movimento di Lotta per la Casa e il picchetto antisfratto io non ho un decreto di assegnazione di questo alloggio e le chiavi di questo alloggio a Palombaio il picchetto allestito questa mattina in Via Napoli è soltanto una delle tante iniziative organizzate dal Movimento di Lotta per la Casa l'obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione sui frequenti episodi di sfratto che si registrano quotidianamente nel capoluogo pugliese noi rivendichiamo il diritto alla casa per tutte e tutti e non è una questione di accelerare i tempi è una questione di chiamare immediatamente a tempo breve pochissimi giorni un tavolo tecnico comunale sull'emergenza abitativa e ribadiamo che anche il termine emergenza abitativa non deve essere utilizzato più siamo in piena crisi abitativa ormai è una forma cronica non si può aspettare ulteriormente e il porto di Bari guarda il futuro presso nuovi lavori per ampliarne le capacità ci dice tutto Roberto Maggi nuove opere di banchinamento una superficie complessiva di 33 mila metri quadri nello stesso posto dove già sono presenti le infrastrutture al servizio della guardia costiera compresa una fascia di ampliamento larga 20 metri necessaria per esigenze costruttive d'uso che sarà destinata all'autorità di sistema al porto di Bari corre l'iter per la realizzazione dei lavori di potenziamento della sede logistica del corpo della capitaneria di porto delle nuove banchine in ampliamento del molo San Cataldo la settimana prossima con un provvedimento dell'autorità di sistema portuale Ugo Patroni Griffi potrà essere conclusa la conferenza di servizi indette in forma semplificata e modalità sincrona per l'acquisizione dei pareri propedeutici e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per l'ottenimento l'opera che è un quadro economico di oltre 34 milioni di euro è cofinanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e consentirà alla capitaneria di porto di avere la disponibilità di ormeggi adeguatamente infrastrutturati in un'area ritenuta strategica per i rapporti con i paesi transfrontalieri e per la tutela dell'Adriatico Meridionale sul molo San Cataldo verranno realizzati tre nuovi punti di ormeggio per la lunghezza di circa 400 metri mentre le superfici restanti saranno destinate sia alla guardia costiera sia alla produtturistico nella darsena di Ponente infine verrà realizzato un puntile idoneo a l'ormeggio di due navi Ropax che potranno aprire il portellone di Poppa sulla banchina 11 a breve l'ente portuale pubblicherà la gara per la realizzazione dei lavori sulla base della formula dell'appalto integrato affinché l'opera possa essere realizzata entro la fine del 2025 il porto del futuro inizia a prendere forma e sostanza commenta il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi un porto interconnesso con la città ecosostenibile sicuro e modernissimo stiamo trasformando lo scalo in un hub polifunzionale e nevralgico che rivestirà un ruolo primario nel bacino del Mediterraneo e parte la seconda edizione del Polibus il viaggio itinerante del Politecnico di Bari a bordo di un bus laboratorio tra piazze e scuole di Puglia e Basilicata un nuovo modo di orientare i maturandi e far sì che trovino la loro strada arriva l'anno della maturità e i dubbi sul proprio futuro di studenti e professionisti del domani incombe il Politecnico di Bari riesce per il secondo anno consecutivo ad accendere i sogni ingegneristici dei maturandi con il suo open day a bordo del Polibus a due piani di Itabus attrezzato con sette laboratori mobili STEM e spazi di incontro mirati sono 2500 gli studenti pugliesi e lucani di 19 istituti scolastici superiori saliti sul mezzo che da venerdì 16 febbraio comincia il suo tour immersivo per toccare in nove giorni 15 tappe i ragazzi anche i più scettici hanno così la possibilità di innamorarsi delle materie scientifiche attraverso dimostrazioni pratiche all'interno del bus misurandosi con il grattacielo antisismico l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata sono uscite a settembre le nuove linee guida del ministero dell'istruzione che parlano dell'importanza del potenziamento delle materie STEM soprattutto per quanto riguarda la questione del genere ad oggi le ragazze che studiano su indirizzi tecnico-scientifici sono ancora troppo poche sono ancora troppo poche nel nostro sud Italia e penso che questo progetto possa veramente rappresentare una best practice cosa rappresenta per i giovani un progetto di robotica del genere è una grandissima opportunità perché gli ingegneri che abbiamo ad Omniglass i tirocinanti che vengono ad Omniglass hanno la possibilità di vedere tutto ciò che hanno studiato applicato e di utilizzare già da giovanissimi la loro creatività per realizzare qualcosa che è talmente innovativo di essere alla frontiera della ricerca e dell'innovazione mondiali questo Open Day ti sta aprendo la mente per capire che la strada per te è quella delle materie scientifiche al Politecnico di Bari utile anche per rendersi conto comunque di cosa si studia di come si svolgono comunque gli studi vorresti iscriverti alle materie scientifiche qui? cosa? io pensavo ingegneria biomedica poi vediamo e parliamo ora invece di sanità i lavoratori dell'RSA di alcune zone del Salento hanno protestato davanti alla sede della presidenza della regione Puglia resta ancora appesa un filo la situazione dei 17 dipendenti della RSA San Raffaele di Campi Salentina che rischiano il licenziamento a seguito della procedura avviata dall'ente gestore la Sgas SRL la residenza sanitaria che ospita pazienti affetti da Alzheimer e da demenze senili sta infatti vivendo una situazione di difficoltà a causa della riparametrazione delle prestazioni erogate e del mancato pagamento dei servizi da parte dell'ASL di Lecce per il momento a seguito di un tavolo regionale SEPAC organizzato a Bari nella sala conferenze della presidenza della regione Puglia la procedura per il taglio di personale è sospesa intanto si attende un nuovo incontro fissato tra dieci giorni proviamo a costruire attraverso il tavolo SEPAC il mantenimento del lavoro abbiamo fatto un tavolo d'incontro importante con un ruolo costruttivo di sinergia partendo dai sindacati arrivando all'azienda alla presenza della SLEC e del Dipartimento della Salute abbiamo oggi trovato una possibile soluzione vedremo nei prossimi 15 giorni di provare a definire questa procedura per evitare il licenziamento dei lavoratori qui si è parlato solo di soldi calcoli la difesa dei 17 lavoratori delle famiglie dei pazienti aspettiamo quindi dobbiamo essere fiduciosi speriamo bene ma andremo avanti in tutti i modi a sostegno della causa all'esterno della regione una manifestazione dell'unione sindacale di base è evidente che la regione ha sbagliato nei confronti dei pazienti di Alzheimer e anche nei confronti dei dipendenzi noi chiediamo che si ravveda è importante mantenere i numeri e soprattutto dare assistenza a questa gente che ha necessità in quanto anche le famiglie non possono assistere a domicilio ed è stato presentato questo pomeriggio nell'aula Aldo Moro del dipartimento di giurisprudenza il volume manuale di deontologia del giornalista intelligenza artificiale processo mediatico ricerca del consenso di Michele Partipilo la deontologia come bussola finché l'attività giornalistica non si trasformi in violenza di immagini e parole affinché sia sempre tesa la ricerca della verità affinché non diventi strumento di ricatto presentata la nuova edizione a due anni dalla prima del manuale di deontologia del giornalista intelligenza artificiale processo mediatico ricerca del consenso di Michele Partipilo la deontologia può contribuire a distinguere l'informazione il giornalismo da tutto il resto perché noi siamo i custodi dell'informazione un lavoro serio ed approfondito come lo ha definito il giornalista saggista e scrittore Ferruccio De Bortoli presente all'incontro ma anche un testo di diritto e filosofia non una difesa corporativa della categoria ma una disamina dei reali problemi che riguardano non solo il giornalismo ma l'intero dibattito politico sociale e culturale del paese le nuove sfide dunque in un'epoca dominata dai mezzi di comunicazione in particolare dalla rete internet la figura del giornalista diventa a questo punto indispensabile a patto però che sia professionalmente preparato la deontologia quindi come vero e proprio spartiacque è una guida per la nostra professione ma è una garanzia per la qualità della democrazia del nostro paese cioè il fatto di avere dei giornalisti professionisti che hanno un ordine che hanno delle regole che hanno saputo nel tempo anche darsi dei codici di autoregolamentazione come la carta di Treviso a tutela dei minori io penso che si debba avere fiducia nella capacità di una professione di sapersi rinnovare con tutti i difetti e con tutte le colpe che potrà avere dandosi delle regole perché la libertà c'è nella responsabilità per quello che si scrive e nel rispetto della dignità delle persone che sono coinvolte Presenti all'incontro anche Leonardo Leone De Castris procuratore generale della Corte d'Appello di Bari e Rosario Tornesello direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia In occasione della giornata del risparmio energetico al Politecnico di Bari si accende un display per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico installato nel campus a dimostrazione questo dell'attenzione del campus stesso alle politiche di sostenibilità In una società narcisistica pervasa da ego che smaniano per illuminarsi d'immenso il pianeta va controcorrente e ha bisogno di illuminarsi di meno Il Politecnico di Bari dimostra ancora una volta di essere attento alla salvaguardia dell'ambiente puntando tutto sulle politiche di efficientamento e risparmio energetico tramite l'impianto fotovoltaico In occasione dell'edizione 2024 proprio di mi illumino di meno giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio 2 è stato inaugurato nell'atrio Cherubini del Polibà un display della MET grazie a cui docenti studenti e personale universitario potranno conoscere in tempo reale l'energia prodotta al campus sul monitor saranno quotidianamente visibili i dati relativi alla potenza istantanea alla CO2 risparmiata e all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico realizzato dall'azienda proprio nella giornata nazionale mi illumino di meno che il Politecnico vuole sottolineare le proprie capacità e quindi di di muoversi in tal senso abbiamo e con questo devo ringraziare diciamo il MET che con la sua diciamo efficacia abbiamo installato ben tre settori diciamo di pannelli fotovoltaici un'iniziativa simbolica alla stregua di quella di illumino di meno che oggi vedrà coinvolti i quattro atenei della regione Puglia che dalle ore 19 disattiveranno l'alimentazione dell'illuminazione proprio a testimonianza di un impegno di andare nella direzione di una riduzione della emissione di CO2 nell'atmosfera e sono tanti gli eventi del fine settimana nel barese all'insegna dell'amore tra dolciumi e tour culturali nelle location più suggestive della provincia la rubrica di Giuliana Vendola come una manna dal cielo a riportare nelle nostre vite del sano svago e relax torna l'agoniato weekend a Bari che trascina con sé gli strascichi dolcissimi del San Valentino appena passato fino al 18 dicembre in piazza Umberto Primo ci si potrà perdere tra i 20 stand del puro cioccolato festival alla sua prima edizione nel capoluogo di regione il pubblico potrà così imbattersi in ben 13 mastri cioccolatieri nazionali e molti altri internazionali che propongono tipicità dolciari e locali italiane e provenienti da ogni angolo del mondo basta un LP una puntina di un giradischi e un po' di atmosfera per risvegliare i ragazzini romantici solo assopiti dal tempo e non esiste evento migliore per riaprire la scatola dei ricordi musicali che la città del disco che si terrà sabato 17 e domenica 18 febbraio presso il centro commerciale mongolfiera Bari di apigia che nessuno prende impegni per sabato 17 febbraio perché allo store sky di Bari in via calefati 76 approderà settimino di fonzo il mitico concorrente di masterchef italia 13 che da santeramo è riuscito a conquistare con la sua spontaneità e simpatia il cuore di giudici e spettatori amor che muove il sole e le altre stelle diceva il sommo poeta un'espressione che racchiude il senso del sentimento più intimo e che non può che essere il mantra della settimana degli innamorati se per di più si è in location come le grotte di Castellana fino al 18 febbraio le coppie potranno scegliere se suggellare il loro rapporto con un rito d'amore o passare una serata arricchita dai versi di Dante Alighieri tra le stalattiti e le stalagmiti 12 gli attori e le attrici in scena per uno spettacolo immersivo sensoriale dedicato all'amore dantesco e siamo infine alla nostra rubrica salute e benessere e quest'oggi siamo in compagnia del dottor Nicola Cortese buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento della rubrica salute e benessere insieme a me ancora una volta il dottor Cortese buonasera dottore per parlare questa volta della radiofrequenza frazionata con aghi effettuata attraverso il macchinario vivace allora dottore in che cosa consiste a questo trattamento allora è innanzitutto un trattamento destinato a migliorare le lassità quindi come obiettivo noi abbiamo la pelle lassa e la adiposità quindi per esempio un caso clinico diciamo attuale abbiamo la nostra paziente Carmela che è stata sottoposta già a due sedute di radiofrequenza con aghi abbiamo trattato tutta la linea mandibolare quindi comprendendo anche questo fastidioso bargiglio che soprattutto in posizione frontale grava all'interno della linea mandibolare in più abbiamo una lassità presente sia sul collo che sul profilo della mandibola quindi che cosa vogliamo fare andiamo a impostare il nostro macchinario per lavorare ovviamente su due livelli diversi andiamo a lavorare sul bargiglio adiposo quindi con impostando il macchinario per lavorare a tutta la sua potenza in profondità ovviamente noi abbiamo questo manipolo che è dotato di aghi in oro che fondamentalmente una volta arrivati a fine corsa quindi per esempio a livello del nostro tessuto adiposo del bargiglio non fanno altro che frantumarlo e permetterne un suo riassorbimento in più nella parte finale del lago c'è l'emissione di radiofrequenza la radiofrequenza a livello del bargiglio adiposo ha un ulteriore senso di colliquare questo tessuto adiposo e consentirne un suo riassorbimento oltre a questo la radiofrequenza ha come target la lassità abbiamo detto in che modo abbiamo quindi una stimolazione del collagene mediante la formazione di tanti piccoli buchini quindi questi traumatismi che vengono fatti da questi aghi molto molto delicati in oro permettono una successiva riparazione con deposizione di nuovo collagene e quindi un rimpolpamento cutaneo oltre alla radiofrequenza che dicevamo viene emessa dal mio macchinario esclusivamente in punta del lago serve quindi ad avere un'azione di tightening sulle fibre e collagene già presenti a livello del derma quindi oggi andremo a trattare nella sua unità nella sua completezza tutto il profilo mandibolare e il collo andando a garantire quindi un'ulteriore trazione quante sedute sono necessarie per ottenere un effetto? direi che l'effetto si vede già dalla prima seduta è già abbastanza visibile in quanto il tessuto adiposo colpito da questo ago comincia realmente a svuotarsi e quindi a diminuire la pesantezza che si ha nel terzo inferiore del volto l'effetto rassodante invece è già tangibile immediatamente ovviamente c'è un periodo migliore per sottoporsi a questo genere di trattamenti ed è questo che stiamo vivendo adesso quindi il periodo invernale insieme a tutto il resto dei trattamenti laser quindi tutti i trattamenti che sono un pochino più indaginosi e invasivi e noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di sabato con un lieve cedimento dell'alta pressione sulla parte occidentale del territorio italiano verso la Sardegna di fatti ci sarà un minimo di bassa pressione tra le Balearie e l'Algeria che lambirà l'isola qualche goccia di pioggia altrove invece condizioni di stabilità possiamo notare di fatti la mappa della nuvolosità che ci conferma cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi per un po' di nuvole alte in transito le nuvole un po' più compatte come dicevamo sulla Sardegna a rischio nella prima parte del giorno qualche goccia di pioggia in sintesi ecco la mappa in sintesi appunto dell'Italia per capire come sarà il tempo con una giornata di cieli poco nuvolosi da nord a sud qualche innocuo nuvolamento di passaggio alternato di momenti soleggiati più nubi invece sull'isola sulla Sardegna di notte al mattino attenzione alle nebbie sulla bassa Valpadana ulteriori dettagli approfondimenti scaricando la nuova app di Trebi Meteo sull'isola Grazie a tutti